basketari impenitenti o semplici nuovi appassionati bentornati ad in the paint il format di per sempre news e per sempre napoli che tratta il basket italiano europeo internazionale un format insomma ad alto contenuto e concentrato di palla a spicchi partiamo subito dalle notizie di palla canestro giocata innanzitutto dobbiamo parlare di eurolega perché è stata aggiornata la situazione del maccabi telaviv il maccabi telaviv non disputerà domani la sfida contro l'olimpia milano mentre dovrebbe disputare la partita contro valencia in casa dei taronja la situazione del maccabi vede la squadra almeno per quanto riguarda i giocatori stranieri in quel di cipro ad allenarsi per sfuggire insomma la situazione pericolosa che c'è in israele una situazione sulla quale non parleremo in questa sede andiamo però a fare il programma della prossima giornata come detto non si giocherà e a settembre armani milano maccabi telaviv tuttavia si giocherà alle 19 e 30 annadolu efes real madrid alba berlino basconia invece alle 20 alle 20 sempre villi urbano contro partizan belgrado alle 20 e 15 invece panatinaikos bayern monaco domani dopodomani invece in programma l'altra partita che coinvolge l'italia ovvero monaco virtus segafredo bologna la virtus segafredo che affronterà l'ex jaite oltre che la stella nba kemba walker per quanto riguarda il programma di venerdì vedremo anche zalgiri scaunas stella rossa belgrado olimpiacos pireo barcellona e alle 20 e 30 valencia fenerbace andiamo però a vedere la classifica di eurolega in questo momento le due italiane sono ferme al palo con una vittoria comandano stella rossa belgrado barcellona maccabi telaviv bar mondia monaco valencia zalgiri scaunas real madrid fenerbace e olimpiacos pireo a zero vittorie e a settembre armani milano panatinaikos basconia virtus segafredo bologna monaco alba berlino partizan belgrado anadolu efes istanbul e aswell villi orban per quanto riguarda invece l'euro cup si sono disputate già quattro gare del turno numero due nel gruppo b vittoria per il liet cabelli spane vesis per 84 a 74 sull'aris salonico mentre per quanto riguarda il gruppo a si sono disputate vesictas prometeis lo posa anche 92 a 70 il finale mentre c'è stata anche la vittoria esterna dei london lions 100 a 94 sui veolia towers hamburg andiamo però a parlare della sfida che del gruppo b che coinvolge la squadra italiana una squadra italiana la dolomiti energia trentino si è al resa 72 a 79 nel quarto periodo al minzi di lisburg e in bress una partita che ha visto la dolomiti energia trentino restare in scia per lunghi tratti della gara una trento che però nel finale perde lucidità offensiva segnando solamente 13 punti nel quarto periodo e dovendosi così arrendere ai francesi coltezionando la seconda sconfitta in altre tante partite migliore in campo per quanto riguarda però la formazione di coach galbiati oltre a pol biliga che sfiora la doppia doppia con 17 punti e 9 rimbalzi di quei tre offensivi il giovanissimo queen ellis che in 20 minuti colleziona 14 punti 3 su 5 da 2 2 su 3 da lunga distanza 5 rimbalzi e 3 assist con 15 di valutazione il giocatore di passaporto britannico ma formazione italiana è tornato alla base dopo l'anno in prestito a casale monferrato in a2 in doppia cifra non ci va più nessuno sfiorata soltanto la prenti sub che però tira davvero malissimo 2 su 17 dal campo a cui aggiunge 6 rimbalzi e 5 assist bene per quanto riguarda trento anche toto forrai con 8 punti gli stessi che poi segna un andres gragiuris in fase calante presano le fatiche del mondiale per quanto riguarda invece mincideris burgen brest 17 punti per bryce brown con 4 su 8 dalla lunga distanza 13 per maxim slush 10 per ugo benitez 12 per isaia mike e 11 per kevin cochila che colleziona anche 8 rimbalzi per 22 di valutazione 5 quindi gli uomini in doppia cifra per quanto riguarda la formazione transalpina andiamo invece a vedere le classifiche aggiornate alla prima parte del secondo turno disputato ne parliamo poi anche venerdì bejittas e london lions in testa con due vittorie ad una sola vittoria troviamo pari basketball e apuel shlomo tel aviv apuel shlomo tel aviv che però non potrà disputare la propria partita vedremo quali saranno le misure prese per far terminare la stagione alla formazione israeliana ad una sola vittoria con una sola con una sconfitta il promettei slovo zhanke la formazione ucraina che disputa le proprie partite fuori dal proprio territorio a zero vittoria ancora al palo gioventù badalona humana rayer venezia bc wolves will news sede vita olimpia lubiana di coach pianigiani e veolia towers hamburgo il turno per oggi ci offre una serie di partite sappiamo che apuel shlomo tel aviv bc wolves will news è stata sospesa dove essere disputata alle ore 19 stasera invece prama alle 18 e 30 propone sede vita olimpia lubiana gioventù badalona due squadre che cercano di riscattare la sconfitta all'esordio tur telecom mancara buduc nos voli podgorica per quanto riguarda il gruppo b umana rayer venezia paris basketball per il gruppo a per il gruppo b sempre slask roslav cluj napoca per sempre per il gruppo b dreamland gran canaria razio farm ulm il gruppo b che poi tra l'altro in classifica vede in testa minciris burgen press con due vittorie in altre tante partite si è disputata solamente si sono disputate solamente due partite in questo gruppo nel primo turno dreamland gran canaria buduc nos voli potgorica radno tioparm ulma e kriush napoca con una vittoria in una sola in unica partita disputata con zero vittorie ed una sconfitta troviamo turc telecom ancara a seguire che segue il liet cabelis unica formazione ad avere in due partite una vittoria ed una sconfitta slask bro club e poi dolomiti energia trentino ed aris salonico con zero vittorie e due sconfitte ricordiamo però il format del nuovo della nuova euro cup a passare ai playoff saranno solamente sei squadre dopodiché si faranno i quarti di finale come come se fosse l'anno scorso ovvero a partita secca dopodiché semifinali e finale saranno al meglio delle tre partite andiamo invece a parlare di nba e di una bellissima partita che c'è stata a madrid perché nella preseason di dallas mavericks c'era la tappa del within center una gara che è stata vinta a real madrid per 127 a 123 ma in cui il risultato e ciò che si è visto in campo contava davvero poco è stato il ritorno di luca doncic che nonostante non potesse giocare secondo ordine dei medici è riuscito a strappare cinque minuti da offrire al pubblico del club che l'ha visto nascere cestisticamente è stato un ritorno emotivo gli è stato offerto un'insegna di merito del real madrid gli è stato offerto una replica dell'eurolega la decima vinta nel 2018 dove lui fu mvp è stato ritrovarsi con compagni come rudy fernandez sergio iuli fabien causer ma anche un compagno ritirato come felipe reyes che era il capitano in quel real madrid insomma è stato il ritorno a casa del bambino che è cresciuto del ragazzo che era partito per trovare la sua strada e che è ritornato a casa ha cresciuto per orgoglio di tutta una tifoseria che l'aveva adottato da quando aveva meno di 16 anni c'è chi ha fatto polemiche per i soli cinque minuti definendo farsa questa partita evidentemente non ha capito nulla non ha capito nulla del fatto che questa non fosse una partita normale per quanto fosse una partita di precision di una squadra nba non ha capito nulla della relazione che c'era fra luca doncic e real madrid luca doncic che è socio del real madrid e che con tutta probabilità finirà la sua carriera al real madrid luca doncic è il real madrid se parliamo di basket come raul gonzalez lo è nel calcio luca doncic è sempre stato madridista a meno che non succeda qualcosa di simile a quanto fatto da mirotic che tradì tra virgolette scegliendo il barcellona per il suo ritorno in italia generando l'ostilità di tutto l'ambiente luca doncic quando va a madrid va a casa va nel club che l'ha cresciuto va a trovare gli amici di una vita gli amici della sua adolescenza va a trovare una tifoseria che come detto l'aveva adottato come un figlio chi non capisce tutto questo chi non capisce l'emozione che c'è stata dai tifosi dallo speaker pedro buonofiglio da tutta la dirigenza del real madrid evidentemente avrebbe fatto meglio guardarsi qualche altra partita c'era trento in campo c'erano altre due partite d'euro cup anzi tre piuttosto che aprire la bocca senza sapere di che cosa si parla l'opinione è libera ma l'opinione non è necessaria non è necessario esprimerla se non si conosce l'argomento non è necessario esprimerla se non si conosce la relazione umana che c'è se non si capisce che una cosa del genere avremmo potuto avremmo potuto vederla solamente con per esempio il ritorno di Enzo Esposito con la maglia dei Toronto Raptors al Palomaggio sarebbe stato molto simile il ragazzo che cresce e poi torna cresciuto se non lo si capisce e ci si vuole limitare a considerare Luca Doncic la stella NBA che si è risparmiata e allora forse è meglio riflettere prima di parlare torniamo sempre in NBA perché hanno giocato anche altri italiani hanno giocato anche gli italiani nella preseason dopo 402 giorni di assenza dai campi è tornato in campo Danilo Gallinari per lui in 16 minuti 15 punti nella partita disputata dai Wizards contro i Cairns Trappans per oltre ai 15 punti segnati con 5 su 7 dal campo e 3 su 4 dalla lunga distanza Danilo Gallinari ha collezionato 4 rimbalzi 3 assist e una palla rubata mancava dal parquet dal 27 agosto dello scorso anno nel match che Little Basket aveva disputato contro la Georgia il ritorno oltre al ritorno di Gallinari c'è ancora Simone Fontecchio i Jets perno l'amichevole contro i Los Angeles Clippers per lui però 15 minuti con 2 su 6 dal campo 7 punti 5 rimbalzi e 2 assist andiamo invece in Italia dove ha parlato a tutto sport il coach della GV Napoli Igor Milicic in sintesi qualità notevole ha detto ai microfoni di Piero Guerrini ma mi aspettavo impianti più nuovi andiamo a leggere un pochino l'intervista concessa a Piero Guerrini innanzitutto sulla proposta di Napoli mi ha chiamato il responsabile dell'area tecnico-sportiva Pedro Jonpar e mi ha proposto un progetto pluriennale il primo nella mia carriera da coach anche dove ero stato 5 anni era per i nuovi stagionali l'idea di lavorare in una grande organizzazione ambiziosa come me programmare un percorso di crescita con obiettivi è la sfida in Polonia potevo solo rivincere amo le sfide dopo la Turchia qui è il massimo ha continuato a parlare il tecnico croato che sta sorprendendo tutti dopo l'inizio della Gemi Napoli che ha vinto a Sassari e ha sconfitto anche i campioni in carica dell'Olimpia a Milano sugli obiettivi è cauto salvarsi con tranquillità poi puntare i playoff successivamente all'Europa non è obbligatorio tutto in una notte non c'è grande pressione se si arriva prima meglio sulla squadra poi il coach croato ha dichiarato forse l'idea di una squadra diversa dalla norma italiana ha inciso sulla mia chiamata non so c'è bisogno di esperienza in una squadra ma il primo aspetto è che ci sia il desiderio di giocare in difesa e poi stare bene assieme e passarsi la palla certo servono abilità e struttura fisica abbiamo parlato e cercato i giocatori adatti secondo il budget sul basket italiano poi lo conoscevo già di grande livello guardavo la serie A anche prima di venire mi aspettavo impianti più nuovi ma la qualità e la tradizione sono notevoli vedo un momento positivo la nazionale lo dimostra per me è una grande sfida andiamo invece in casa Virtus Bologna dove abbiamo la notizia sull'intervento di Achille Polonare il club ha comunicato che l'intervento è tecnicamente riuscito e il resto del Carlino ha ipotizzato un recupero in circa 5 o 6 settimane tutto ciò però divernerà dagli esami istrologici a cui l'ex Baskonia si sottoporrà nelle prossime ore in caso siano necessarie ulteriori terapie infatti il suo stop andrebbe ad allungarsi in maniera indeterminata è il minimo da parte nostra augurarvi che tutto vada bene non è mai bello avere una notizia del genere di una malattia del genere per nessuno e quando ci sono queste situazioni i colori indossati sbiadiscono perché si è sempre tutti dalla stessa parte e si gioca tutti per la stessa squadra chiudiamo invece la nostra puntata facendo il quintetto di per sempre news e per sempre Napoli il quintetto della seconda giornata di LBA di in the paint partiamo dalla posizione di playmaker la posizione è occupata da Briantè Weber di Reggio Emilia una partita importantissima da parte del nuovo playmaker reggiano non tanto per i numeri a disposizione ma perché gioca una gara difensiva che passa sotto traccia eppure di grandissima incisività un'incisività che è constatabile nella prestazione negativissima di un certo David Logan il professore gioca solo 13 minuti e non segna mai chiude a zero punti con le mani di Briante Weber che sono davvero dappertutto a disturbare il palleggio a disturbare le idee a disturbare la visione prestazione difensiva importante in una squadra in cui la difesa era proprio uno dei punti interrogativi nello spot di guardia qualcuno non sarà d'accordo ma ci mettiamo Jacob Pullen il giocatore di Napoli disputa una gara che per tre quarti è peggio dell'anonimato ma nel quarto periodo è lui ad emergere quando gli altri sembrano perdere le energie residue Milano è sotto di sei punti è ritornata in scia 60-54 e Jacob Pullen che prima sfrutta il rimbalzo in attacco di De Nicolao per piazzare il più 9 poi segna anche il più 12 in questo fazoletto di tempo trova anche il canestro con esitazione per il più 15 e Napoli poi vola via per il più 17 e poi Napoli vola via non guardandosi più indietro nello spot di ala piccola John Petrucelli è lui probabilmente uno dei giocatori più sottotraccia di tutta la giornata di campionato è il top scorer di Brescia dove una squadra in cui lui è la quarta opzione offensiva dietro Bilan dietro Criston dietro della Valle talvolta anche dietro C.J. Massimburg che esce dalla panchina da questo punto di vista le previsioni all'inizio stagione erano quelle di vedere lo spesso nella second unit o limitato al compito che svolge magnificamente di Mastino nella propria metà campo al servizio di Criston della Valle Bilan e invece segna più di tutti senza essere quello che si prende più tiri insomma all'around nello spot di Alagrande non c'entra nulla a quanto gli è accaduto ma ci mettiamo Achille Polonara lo diciamo quello che è accaduto non c'entra niente la gara con Barese ha dimostrato che il giocatore sotto un alone di negatività che dura da due anni va detto e non solo dal mondiale c'è e può essere un solido alleato di coach Luca Banchi il tiro pesante continua a tradirlo 0 su 3 ma sotto canestro fa sforterlate con un certo Willy Caloestein senza paura e questo è comunque un buon segnale gli auguriamo come detto di tornare al più presto nello spot di pivot MVP della giornata secondo i tifosi Tariq Owens il giocatore partenopeo si prende il secondo posto per Napoli nel quintetto dopo l'impresa sul Milano ma di Tariq non impressionano solamente le cifre e i voli che compie quanto la prestazione difensiva che mette sul tavolo anticipando spesso il role dell'avversario nascondendo quelli che sono i suoi limiti un lavoro che si è visto poco a Varese ma che lui ha svolto con diligenza e puntualità oltre ai numeri oltre alla doppia doppia c'è da parlare davvero di Tariq di Tariq Owens come un difensore attento e diligente sesto uomo del nostro quintetto Nicola Mirotic nonostante la sconfitta della sua Olimpia a Milano dopo un overtime a Istanbul è l'ultimo ad arrendersi nell'Olimpia sciorina talento ogni volta che ha la palla in mano e fa notare la diversa categoria tra un ex NBA vero e chi lo è stato solo come sventolatore da sciogamani quando vuole è il basket però sarebbe meglio non spomparlo adesso Ettore Messina visto che servirebbe di più verso primavera chiudiamo invece con l'allenatore Igor Milicic Gevi Napoli se Sassari poteva essere un caso frutto di fortunate coincidenze di una squadra che ha funzionato nel suo insieme l'esordio casalingo lo costringe subito a fare i conti coi problemi degli esterni inarrediti dalla difesa avversaria la squadra però sembra credere ciecamente in ciò che il coach le dice ha la convinzione di essere sulla strada giusta e si danna per eseguire le sue indicazioni è in Italia da poche settimane eppure ha già un gruppo che andrebbe sul fronte per lui con questo noi concludiamo la nostra puntata per noi è tutto ci vediamo sempre qui sempre sul Parké di In The Paint ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!